Forse non sai che l'idea più creativa di Steve Jobs non è stata l'iPod o l'iPhone. Nel 1985, infatti, Steve Jobs viene cacciato dal consiglio di amministrazione di Apple, l'azienda che, insieme al suo amico Steve Wozniak, aveva contribuito a creare soltanto nove anni prima. Questo perché la dirigenza aveva deciso di mettere in secondo piano l'innovazione sul prodotto per massimizzare i profitti attraverso una drastica riduzione dei costi. Questa strategia funziona per un po', ma presto Apple inizia ad avere delle serie difficoltà, tanto da rischiare il fallimento. Come ultima risorsa, nel 1997, quindi 12 anni dopo che era stato cacciato, il consiglio di amministrazione dell'azienda chiede a Steve Jobs di ritornare a guidarla. Jobs accetta e, visto che il problema più grande in quel momento erano i soldi, quindi i finanziamenti per far andare avanti l'azienda, fa una mossa che sciocca tutti, anziché concentrarsi immediatamente sull'innovazione del prodotto, prova a convincere il più grande concorrente di Apple, cioè Microsoft, a investire nell'azienda. Il consiglio di amministrazione pensava che Jobs avesse completamente perso la testa, perché, oltre ad essere concorrenti, Apple e Microsoft erano in una feroce battaglia legale proprio in quel periodo. Jobs riesce però a convincere Bill Gates a fare un investimento di 150 milioni di dollari nell'azienda, denaro che salva appunto Apple dal disastro e gli consente, tornando in quel momento a innovare sul prodotto, di diventare la realtà che tutti oggi conosciamo. Morale? La creatività può avere infinite sfaccettature. Una mancanza di creatività e di innovazione sui prodotti aveva portato Apple sull'orlo della rovina. E una soluzione creativa in ambito finanziario le ha consentito di risollevare la testa e diventare, come già detto, la realtà che oggi conosciamo. Bene, questo è tutto. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi. Grazie mille per l'attenzione. Alla prossima! Grazie mille per l'attenzione.